Si è svolto sabato 21 aprile a Roma, in collaborazione con Sanofi Italia, il minicorso organizzato dall'Accademia dei pazienti e upati dal titolo, dall'autorizzazione all'emissione in commercio fino al corretto utilizzo dei farmaci. Una giornata di formazione che rientra nella serie dei minicorsi ideati e realizzati dall'Accademia per la formazione del paziente, dei rappresentanti di pazienti e dei caregiver nell'ambito della ricerca e sviluppo dei farmaci. I temi affrontati durante i diversi minicorsi vanno dalla scoperta di una molecola alla ricerca preclinica, dalla ricerca clinica all'autorizzazione in commercio, dall'HTA alla farmacovigilanza. L'innovatività di questi minicorsi è rappresentata dal fatto che sono gli stessi pazienti già formati, quali i pazienti esperti e upati, ad occuparsi della formazione di altri pazienti su argomenti tecnici e scientifici nell'ambito della ricerca e della salute. Anche con la gente che sta Childsuna, mi ha denuito per l'ipopera. Iniziamo in un'acqua, una nuova, una nuova, una nuova, una nuova, una nuova, un'acqua, una nuova. E' un'acqua, quindi, un fillore, è un'acqua, un'acqua, un'acqua lunga, un'acqua, una nuova, una nuova, una nuova e un'acqua lunga. Un'acqua di un'acqua cheva cada uno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.